A conferma dalla precisa scelta di restare al fianco della comunità di Deirago, comune in cui la BCC di Bustogaroffe e Bugugiate è rimasta l'unico sportello bancario da settembre 2020, in questi primi giorni di novembre sono partiti gli interventi di ammodernamento della filiale. Stiamo effettuando dei lavori di ristrutturazione per rendere i locali della nostra filiale ancora più accoglienti e ancora più moderni a servizio della nostra clientela. Siamo l'unica banca rimasta attiva sul territorio di Deirago. Vogliamo quindi garantire ai nostri clienti continua assistenza ed è per questo che abbiamo potenziato la filiale della vicina Olcella in cui verranno trasferiti i nostri dipendenti a servizio della nostra clientela. A Deirago in ogni caso rimarrà costantemente attivo l'apparato Bancomat. Per qualsiasi altra operazione i clienti potranno utilizzare l'app Relax Banking della nostra BCC.